Sindaco, ha letto la dichiarazione del procuratore generale Greco che dice che sembra fare una distinzione tra i magistrati del nord e quelli del sud? Devo dire che sono rimasto molto colpito dalla dichiarazione del procuratore Francesco Greco. Faccio una premessa, comprendo che va interpretata, ma io ho una stima importante di Francesco Greco per le sue qualità professionali e etiche, però la frase non mi è piaciuta. Primo perché continua a creare un clima di sconcerto nel paese sulla magistratura e sinceramente, posso dire da magistrato del sud perché lo rimango sempre, conosco il tributo in termini professionali e di vita che la magistratura del sud ha dato, ma questo potrebbe dire, il greco dirà, certo non mi riferisco ai magistrati del sud, mi riferisco al sistema. E' qua che mi fa ancora più male la sua dichiarazione, perché vorrei ricordare al procuratore Greco che quel sistema che sicuramente ha la centrale operativa a Roma, sicuramente ha la centrale operativa a Roma, diciamo l'epicentro criminale, ma per un fatto perché c'è la sede istituzionale, dove si consumano quelle cloache istituzionali, nella mia vicenda vedeva coinvolti diversi magistrati del sud, diversi magistrati del centro, anche delle isole e diversi magistrati del nord. Andatevi a vedere i nomi di chi erano i capi corrente, chi stava all'interno dell'ANM, chi stava nel CSM e scoprirete nella residenza anagrafica che ci sono molti nel nord. Allora io penso questo, l'Italia oggi è molto divisa purtroppo, è un paese non coeso, ma è sicuramente unito dalle mafie e da un certo sistema criminale che vede nel modo di operare, tipo la P2, un suo elemento centrale e fondante. Allora da persone del calibro e della statura di Francesco Greco, che capisco pure che cosa magari voleva intendere, però c'è bisogno di un'attenzione particolare e di un rispetto particolare del nostro sud per quello che ha dato in termini di lotta alle mafie, per quello che ha subito sulla propria pelle di quel sistema di cui facevano parte anche i magistrati del nord e se me lo consentite oggi forse il livello mafioso più pericoloso sta proprio da Roma in sud, perché noi al sud abbiamo anche sperimentato in questi anni tanti anticorpi, non solo nei confronti delle mafie di strada, ma anche di quel sistema criminale che ora fanno tutti finta, come dire, che scoprono per la prima volta. Vorrei sapere poi tutti questi, quando alcuni magistrati pagavano, che cosa dicevano? Io me ne vorrei andare a vedere le dichiarazioni e vedere i mormoristi di adesso e i pontificatori di oggi dove stavano quando accadevano tutte queste nefandezze, sicuramente che si consumavano a Roma, ma non solo a Roma.